All'ultimo appuntamento dell'anno la nazionale azzurra di Bernardini Biarzot ha centrato il bersaglio, 3 a 2 alla Grecia. I commenti oggi sono intonati alla generale soddisfazione per la squadra e per i singoli. Il ritrovato ambiente sereno, tranquillo e costruttivo ha evidentemente giovato alla nostra nazionale. A Firenze gli azzurri sono stati impegnati severamente dalla agile nazionale greca che confermando i progressi tecnici recenti è parsa anche rinvigorita sul piano agonistico. Incontro apertissimo, da botta e risposta, come dice lo stesso andamento delle segnature che vi rivediamo subito. Dopo 8 minuti Pulici realizza ma è importante il contributo di Savoldi. Al 35esimo la Grecia pareggia, sbandamento difensivo azzurro con Scirea forse troppo in avanti fuori posizione e con Gentile che tocca male e favorisce Criticopulos che pareggia. A tempo scaduto, su preciso servizio di Causio, Pulici raddoppia. Nella ripresa, dopo 7 minuti, ancora al pareggio i Greci con Sarafis che riprende in corsa la respinta di Bellugi. Al 25esimo il fallo su Savoldi di Sinetopulos e il rigore che lo stesso Savoldi realizza. Nella stessa altalena dei gol, accanto ad alcune sfasature in difesa, possiamo scorgere una cresciuta maturità, anche in senso agonistico, della rinnovata squadra azzurra. Una partita divertente, proprio perché il comportamento della squadra non l'ha drammatizzata. Una squadra che ora, sia pure in breve, analizzeremo nei singoli. Zoff è stato forse il migliore fra gli azzurri, come ci mostrano alcuni interventi provvidenziali. Davanti a lui Gentile e Rocca, forse meno precisi di altre volte, ma senza dubbio specialmente il romano, quando nel primo tempo ha agito sulla destra, in grado di difendere e di portare contributi offensivi. La tendenza ad avanzare dei due difensori sottolinea indirettamente l'accorta prestazione di Bellugi. E quella dell'esordiente Cirea, ragazzo freddo, che raramente si disunisce. D'altra parte, i centrocampisti non solo hanno efficacemente funzionato da filtro, ma hanno agito come difensori puri. In particolare Capello, per lunghi tratti, ha sostato a orchestrare con la consueta efficacia di regista intelligente la difesa. Comunque Capello è stato valido anche in avanti, qui, imbeccato da Antonioni, lo vediamo impegnare il portiere avversario. Causio ha accorso molto, agendo sulle fasce laterali, anche lui spesso impegnato in manovre di copertura, data la grande mobilità degli avversari. Benetti, meno autoritario di altre volte, ha dovuto sobbarcarsi compiti di tamponamento quasi da terzino. Antonio Capello, sotto gli occhi di un pubblico che lo conosce, ha disputato forse la sua migliore partita in nazionale, correndo molto e anche mettendosi in vetrina con alcune conclusioni spettacolari. Nelle due che vediamo, la soddisfazione del gol gli è stata negata dalla bravura del portiere. Zaccarelli, con lui nel secondo tempo, la nazionale ha avuto una maggiore spinta offensiva e forse un maggior ordine. Si è dimostrato, cioè scelta felice. E le due punte. Qualche critica l'ha avuta Savoldi, ma il centro avanti era reduce da un infortunio. Comunque si è mosso bene. Peccato che abbia mancato almeno un paio di favorevoli occasioni come questa. Pulici, grande mobilità, potenza atletica, alcune imprecisioni in un paio di occasioni finali, ma finalmente è pervenuto al gol in maglia azzurra. Anzi, una doppietta che lo rinfranca e lo rilancia. Emblematicamente, con Pulici, la nazionale si ricostruisce e spera. Grazie. 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 Grazie.